Matteo Renzi, 25 maggio 2022, orgoglioso di sostenere Marco Bucci che è un ottimo sindaco di Genova e continuerà ad esserlo anche con il sostegno di Italia Viva, grazie a Lella Paita per il suo lavoro. Quello stesso giorno, intervistato dal secolo XIX, su Bucci dice Renzi, ci ha convinti lui, la sua serietà, il suo stile di governo, è un sindaco civico formidabile, soprattutto nella sua credibilità sulle infrastrutture, come abbiamo visto per il ponte Morandi. Mercoledì 25 maggio 2022, Bucci si è rimboccato alle maniche, dice Renzi, ha rimesso a posto la speranza di una città, ha delle idee che noi apprezziamo rispetto allo sguardo cinico del Movimento 5 Stelle, preferiamo quello civico di Marco Bucci. Poi, 26 novembre 2022, Bucci è bravo, non vogliamo minimamente farlo cadere, viva Bucci che possa governare bene. Il giornalista Mario Lavia, sempre oltremodo amichevole con Renzi, sull'inchiesta, sempre oltremodo amichevole con Renzi, il 21 aprile del 2022 scriveva un sentitissimo articolo per spiegarci che l'appoggio del leader di Italia Viva a Bucci è uno strappo politico e simbolico, scriveva, ma viene consumato in nome della coerenza, prima i programmi, poi le bandiere e del fatto che in realtà il sindaco non ha niente a che vedere con le istanze di Lega e Fratelli d'Italia. È da chiedersi, infatti, scriveva Lavia, cosa c'entri un amministratore serio come Marco Bucci con i sovranisti che si sono sempre mostrati più che inadeguati a governare le città o anche solo a candidarsi per diventare sindaci. Ora, da ieri, Marco Bucci è il candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali in Liguria in cui Renzi vorrebbe invece abbracciare il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Non è tutto bellissimo.